Ballando con le stelle, rivelazione scoop su Angelo Madonia e Sonia Bruganelli. Coppia nella vita, ma rivali in pista nel programma di Mili Carlucci, il primo balla con Federica Pellegrini, mentre lei fa coppia con il maestro Carlo Aloia. Madonia ha spiegato alla sua partner di Ballando che lui e Sonia hanno preso insieme una decisione sul programma. A raccontare tutto è stata proprio la campionessa di nuoto. Finora Madonia ha evitato di farsi coinvolgere nello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia. La giurata, nota per i suoi commenti taglienti, non ha risparmiato qualche frecciatina neanche a lui. A differenza di Sonia, però, Angelo ha saputo mantenere la calma e incassare le critiche. Durante la prima puntata, Selvaggia lo aveva preso in giro per il suo taglio di capelli, paragonandolo a quello del cantante Tony F. Sonia invece ha nominato il compagno solo una volta in diretta, con una battuta malriuscita rivolta a Guillermo Mariotto. Tuttavia, la coppia è stata spesso ripresa mentre parlava nella Sala delle Stelle. Molti telespettatori si sono chiesti negli ultimi giorni perché Angelo e Sonia non stiano gareggiando insieme. Sarebbero stati una coppia perfetta, insieme nella vita e sul palco. Angelo ha 39 anni, mentre Sonia ne ha 50, e la loro relazione è diventata pubblica solo pochi mesi fa, dopo il divorzio dell'imprenditrice ed ex opinionista TV da Paolo Bonolis. Il motivo per cui Angelo e Sonia non ballano insieme è stato svelato da Federica Pellegrini in un'intervista al settimanale Chi? Gli ho chiesto, ma come mai non ti hanno fatto ballare con Sonia? E lui mi ha risposto, è stata una scelta professionale, presa da entrambi. Quindi, ci sarebbe stata la possibilità di vederli esibirsi in coppia nel programma, ma hanno preferito evitare, per motivi professionali. Parlando del rapporto con Madonia e con Bruganelli, Federica Pellegrini ha aggiunto, sono arrivata tardi a Roma, tre giorni prima della prima puntata, e solo ora sto iniziando a prendere confidenza con Angelo. Anche con Sonia si è creato un bellissimo rapporto. Federica non ha risparmiato elogi per il suo maestro. Quando si è espresso a mio favore qualche puntata fa, l'ha fatto per un senso di protezione credo che sia così per natura, è una persona molto protettiva.